E' quel tipo di elettorato che sta cercando una nuova casa Ma non sarà convinto dalla tv Perché la tv ormai da questo punto di vista non ha più neanche i luoghi dove si proponga l'idea Ma non ha più credibilità alla tv Ma non ha più credibilità magari per noi Però io penso sempre tra virgolette alle persone normali Certo, alla nonna è chiaro Però le tue zie per prime ormai non credo che abbiano un luogo televisivo dove si riformano Sicuramente è un periodo per molte persone che non... Diciamoci la verità, sui social network, soprattutto su Twitter c'è una minoranza delle persone Quindi difficilmente il grande pubblico ci rientrerà rispetto a quello che succede sui social network Lo potranno fare di rimbalzo grazie all'agenda che i social network riusciranno a imporre Però secondo me ancora oggi una maggior parte delle persone Soprattutto se stiamo parlando di un pubblico che va da 50 anni in su Orienterà la propria decisione sulla televisione Dante? Beh io sulla fascia ho qualche riserva Se parliamo di 50-60 credo che i social cominciano a incidere diciamo percentualmente in modo sensibile Se parliamo degli over 60 allora qualcuno è chiaro che la percentuale li cambia completamente È influenzato sicuramente dalle televisioni Ma il problema delle televisioni è il contenuto Noi dobbiamo essere secondo me chiari sui messaggi che mandano alcune televisioni Che sono totalmente vorrei dire falsi Ma al di là di questo, perché questo ovviamente ognuno poi dal punto di vista suo vede il vero e il falso Il dato che mi interessa è che proprio in televisione si è abbassato il tasso di capacità dell'informazione Di fare presentazione persino al punto di vista orario Cioè io vi voglio ricordare Siccome un po' di ospitate televisive l'ho fatte in vita mia Che molti programmi a cui andavo ospite Semplicemente non esistono più Non esiste più il Su Rai 2 l'approfondimento del Del giovedì sera che raccoglieva 6 milioni di persone 7 milioni di persone 5 milioni di persone Che era Santoro Ma per non dire Santoro Anche quello che andavo a fare qualche volta da Monica Setta Che era una cosa che invece incideva su altri milioni di persone Pubblico totalmente diverso Oppure quello non ci sta più Cioè l'approfondimento del pubblico Ma perché Mario un programma come quello di Barbara D'Urso Non orienta la comunione pubblica? Sicuramente a punto di vista politico molto poco E tant'è che Mediaset che come dire Non è neutrato in questo discorso Ha inventato il fenomeno del debbio Che a mio avviso non a caso È sbarcato a mattino 5 Altro luogo diciamo così Di una capacità di penetrazione su un pubblico Meno diciamo così Consapevole politicamente E poi ha questo programma Che va molto bene Attenzione Su Rete 4 Che è la famosa Quella che Dante direbbe Il messaggio falso Insomma Che ha scelto invece il messaggio Chiamiamolo così Populista Che però funziona Secondo me è fatto pure abbastanza bene Mi impressiona sempre L'altro giorno ho visto Per due lunedì di seguito Mi sono concentrato Oggi vedremo che succede A seguire Gad Lerner Che va in onda il lunedì Come del debbio Gad Lerner ha fatto una puntata bellissima Sull'Ilva In piazza Taranto Ha fatto il 2% La settimana dopo ha fatto la puntata Invece altissima Sul concilio vaticano Ha fatto meno del 2% Lo stesso orario del debbio Con l'attacco alla casta Diciamo Ti faceva i numeri a colori Più dell'8% Dava 4 volte L'ascolto di Gad Lerner Quindi vuol dire Una volta Gad Lerner Era l'avvenimento televisivo Pensate a Milano Italia Era anche un altro contesto televisivo Un'altra epoca Un anno fa faceva il triplo Un anno fa Un anno fa Faceva il triplo Evidentemente sta passando Un meccanismo per cui Il pubblico consapevole Neanche più segue Il luogo dell'informazione Più classica Più tradizionale Anche più autorevole E su questo mi interessa tanto E sono sicuro Che le cose di Gad Lerner Le seguiva Le ha seguite E questo sono completamente d'accordo È proprio il dibattito politico Che ha perso credibilità in televisione Questo al massimo livello Quindi se un cittadino Vuole informarsi A mio parere In modo corretto O meno Voglio dire Influenzato Sul dibattito politico Va sui social network Va sul web Ma in televisione Ci va di meno Ormai in televisione È rimasto il talk show È rimasta una sensibilità Che più che altro È di spettacolo Del teatrino Di quello che va a urlare E che non si capisce niente È quasi una tifoseria Ecco Mario Il talk show Adesso mi sembra Più una tifoseria calcistica Rispetto a contenuti politici Di messaggio Di contenuto veramente alto Importante Che a mio parere Non si vede più Salvo forse Santoro Che non vediamo però da sei mesi Vedremo adesso Santoro Come se la gava in questa nuova stagione Grazie tante di aver dato il tuo contributo A te Mario Buona giornata a tutti Buona giornata I cittadini che diventano protagonisti Questo è citofonare a Dinolfi Grazie a Marco Esposito Grazie a te Mario E forse Roma ovviamente La Roma è scudo? Eh scudo no Però siamo sulla buona strada Dai un bel quinto posto Che mi piace Andate a giocare l'Europa League Nel campo del Curuli O cose del genere Insomma mi piace Mi piace Sarà divertente Insomma Quindi vi affaticate un po' di più L'anno prossimo Attenti voi a non stancarvi Troppo in Champions Noi abbiamo domani Già una partita importante In Danimarca Cioè dobbiamo stare concentrati Vero? Fare bella figura E possibilmente vincere fuori casa Vabbè Ma almeno la Champions Sarà dura quest'anno Ho capito che Il doppio fronte è faticoso Però abbiamo trovato Questo gioiello ragazzi Fatemelo dire Questa è il lunedì La puntata del calcio Ma Pogba Vogliamo parlare di Pogba Parliamone Ma questo che gol 19 anni Con una sicurezza Palla Pam Non la fa neanche Con una cattiveria Al volo Con una grinta Una capacità Se la sarebbe mangiata Quella palla Mamma mia Che bello Che bello Che bello Quando il calcio regala queste cose Posso dire Mario Un'ultima cosa Sempre tornando al calcio La nota più positiva Della Roma Secondo me Yes E comunque Sono i due centrali di difesa Oh vedi Sono Che hanno preso solo due gol Diciamo Che hanno preso solo due gol Diciamo Invece dei soliti tre Lavorano anche in condizioni Piuttosto difficili Invece dei soliti tre Sa 19 anni Marchini hanno 19 anni Castanne è un bel giocatore Castanne è un bel giocatore Adesso Tu mettili in un contesto difensivo come quello di Conte Ecco appunto Cambiagli l'allenatore Quello che dico io Cambiagli l'allenatore E vedi che cos'è Bonucci e Ma hai visto Bonucci Ma hai visto Bonucci Senza una gamba Ha giocato Bonucci Capito Non si reggeva in piedi L'altro giorno sono andato a rapinarlo Ha dato un cazzotto in bocca Uno gli andava con la pistola davanti Ma vi rendete conto Ma vi rendete conto Che uomini che abbiamo Li chiama Il calciano li ha chiamati soldatini Si è arrivato sotto Stava con la moglie Mi pare pure il bambino E' arrivato questo Con la pistola Gli ha dato un cazzotto in bocca L'ha straiato E l'ha costretto a fuggire Ma vi rendete conto Che uomini Marco Esposio Ammira Piegati Onora questa Juve Onora Ma l'hai visto Senza una gamba A giocare Quando l'ho visto sdraiato Che mordeva l'erba Per il dolore Poi fasciatura Zoppicando E rimasto dentro Con la panchina Che diceva Oh esci 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 E lui no 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 Poi non riusciva a saltare Riusciva Certo A Juventus si è sbloccato La partita Siamo troppo 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 Perché abbiamo Una grinta Una determinazione Mirko Preparami la canzone Che sai Con cui chiudiamo oggi La puntata Ma prima andiamo In pubblicità In pubblicità Poi dopo Caro Esposio Ti dedico La canzone finale Che tu non ascoltai Perché è da fare Magari Insomma Va bene Se hai tre minuti Ascolta Prima pubblicità Poi torniamo Grazie a Marco Esposio Buongiorno Grazie a te Mario Un saluto a tutti gli ascoltatori Pubblicità Mirko